Andres Hauser offre l'innovativa funzionalità Artbit Technology per controllare lo stato di salute della vostra misura. Fornisce informazioni approfondite sui dispositivi per l'ottimizzazione e il monitoraggio delle condizioni di processo. Artbit Technology, per strumenti di misura di portata, livello, pressione, analisi e temperatura, fornisce funzioni di diagnostica, verifica e monitoraggio con lo scopo di semplificarvi il lavoro durante l'intero ciclo di vita. Con Artbit Diagnostics siete sempre aggiornati perché ottenete le informazioni giuste sullo strumento di misura al momento giusto. Ad esempio, nelle applicazioni analitiche, come la misura di pH, i trasmettitori controllano costantemente lo stato dei sensori collegati e forniscono informazioni dirette sul loro stato. Di conseguenza, questo aiuta gli operatori a programmare le eventuali azioni di manutenzione. La maggiore comprensione del processo porta anche a una migliore disponibilità del punto di misura e tempi di fermo impianto ridotti. Con Artbit Verification, un controllo della funzionalità del dispositivo viene eseguito in pochi secondi, senza interruzione del processo, il che consente di risparmiare tempo di attività prezioso per l'impianto. La verifica viene eseguita con la semplice pressione di un pulsante, in loco tramite strumenti sul campo, da remoto da una sala di controllo o direttamente tramite il cloud. Tutto questo si aggiunge a un'elevata sicurezza della funzionalità del punto di misura. Il rapporto di verifica generato automaticamente offre un risultato chiaro, è riconosciuto da terze parti e tracciabile secondo ISO 9001 a supporto della conformità normativa. Con Artbit Monitoring ottenete informazioni dettagliate non solo sullo strumento di misura, ma anche sul vostro processo, consentendovi di essere ancora più efficienti e proattivi nella vostra operatività. Ad esempio, nelle applicazioni in cui si possono creare depositi sull'antenna del misuratore di livello radar, possono verificarsi valori misurati e errati. È possibile utilizzare un sistema d'aria compressa per pulire l'antenna e collegandolo al rilevamento del deposito di Artbit Monitoring è possibile ottimizzare i cicli di pulizia. La pulizia ha luogo solo se il deposito è effettivamente presente e se è stata superata una soglia definita. Oltre al deposito ci sono numerose altre situazioni come corrosione, abrasione, formazione di schiuma o invecchiamento del sensore, di cui l'Artbit Monitoring può rendervi consapevoli. Tutto questo risponde alla domanda sul perché Artbit Technology aumenta le prestazioni del vostro impianto al vostro servizio attraverso il più ampio portfoglio di strumenti.